Ehi, mamma, che cos'è che sta a cuore ai sedicenni? Quando avevo sedici anni io, l'unica cosa che mi stava a cuore era distruggere il patriarcato e bruciare tutto. Oh mio Dio, le donne costituiscano una forza rivoluzionaria. Sai che hanno iniziato a fare le classifiche? Emma Cunningham verrà eletta più chiavabile per il secondo anno di fila. Julia Pascal sarà più bel culo. Kathleen Price più bel davanzale. Che bello non essere puntate da nessuno. Certamente. Ti sono mancato? Sei serio? Dove vai? Smettila. Posso aiutarti? Non lo so, puoi. Ti sta dando fastidio. Mi sta molestando. Se tu usi quella parola, significa che devo fare un sacco di cose. Lo sapete che la vostra scuola è strana, vero? Ignora Mitchell. Se tieni la testa bassa, passerà oltre e darà fastidio a qualcun altro. Ma io terrò la testa alta. Perché lo abbiamo accettato? Nessuno batticiglia. Le mie amiche e io protestavamo contro tutto. Abbiamo fatto un sacco di sbagli. Ma sei contenta? Certamente che dovevamo fare, niente. Chiunque abbia scritto Moxie è una persona cazzuta. Sapete cos'è una porcata? Sono stata mandata a casa per una canottiera. Jason è sempre sbracciato. La gente si rifiuta di chiamarmi con il mio nome nuovo. Non mi piace essere votata più bel culo. Disegnarsi il cuore e stelle sulle mani per esprimere sostegno. Che cosa fica? A tutti i ragazzi qui serve tutto l'aiuto possibile. Non nascondermi i segreti. Veramente sono già incinta. È una battuta molto spiritosa. Vero? Vorrei tanto sapere chi ha iniziato Moxie. E chi sarà il prossimo? Questa sembra una questione femminile e io ne resto fuori. E se lei non fa niente, allora è parte del problema. Ho notato che qualcuno sta riprendendo, quindi io devo andare tantissimo in bagno. Odio che veniamo messe da parte. Ignorati. Che nessuno fa niente al riguardo. Nessuno ci ascolta. Rivoluzione, baby. Ciao. Prima le signore. Posso dirlo oppure vuoi entrare prima tu? Sì, grazie. Ci mangerebbe. Grazie. Ciao. 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 Ciao.